E signori miei, che cazzo è quella roba? Decima parte, tonda, 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 tonda Di Watch Dogs Legend Solo per dire Bad Blood, non so perché, ma ha finito da mesi, mesi, mesi E andiamo a fare un'altra missione per questo DLC Se così possiamo chiamarlo, di Assassin's Creed E risincronizza, perché risincronizza non bastava Forse sapevano più che buttarci Vabbè, dai, facciamo risincronizza così Comunque in alto, chiamiamo il drone da carico e risolviamo la faccenda Allora Dov'è? Eccolo Oh, fin lassù Come diceva Vasco Dov'è? Fin là Eccolo qua Venghi Sincronizza Bugly Due cose sono certe nella vita Una è la morte Due sono le gru in Inghilterra Ragazzi, vado una o due volte al mese Ci sono lavori dappertutto Sono tutto in costruzione Perennemente in costruzione Ar Roternit Dox Scova Templare Ah, tipo le stesse cose di prima Solo con più difficoltà Immagino Eh, dove me ne cacciate però? Non si sa Deve prima parlare con Bugly, vero? Beh, devi tracciare Che palle Perché questo gioco è così complicato? Ma non complicato nel senso difficile a giocare È difficile nelle meccaniche di base Nel darti le consegne Perché così Stronzo? Non lo capisco Dammi il motorino È buona Questa cosa che devi tenere premuto Per salire sulle macchine Sui veicoli Quello che sono Veramente Faccio fatica a capirla ragazzi Ma questa gallina dove porta? No, 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 no Occhi, occhi, occhi Allora, ruba il manufatto senza farti scoprire È nuova Tanto ci faremo scoprire Questo è poco ma sicuro C'ho lo spider bot E mi sa che lo uso Volevo usare il mantello Ma mi sa che lo spider bot È la soluzione a questa cosa Apriti va Tu, via Non mi avete visto Non mi avete visto, vero? No Ecco qua Perché non lo apri? Brutta merda Perché non lo apri? Ok, buono Portabraccio degli assassini Beh Questo è un pezzo da 90 Va bene Fatti ammazzare Fatti catturare dai templari E fatti conciare per le feste Guarda quanto è compressa sta voce Non fai che lamentarti Io me ne vado da questa città E torno dagli altri assassini Ciao Ci riprenderemo Londra Al momento giusto Ora sei da solo Hai capito? Sei da solo C'è qualcos'altro? Ah che è uscito Ok Easy Uno su tre contratti Completati A creare serve dei templari Beh me l'hai messo qua vicino Buono Buonissimo Poca strada Minima spesa Massima resa Ed è qua che userei Il mantello Sapete? Quasi quasi Appunto Via Volate tesorini miei Ciao È vero qua c'ha le api Vole un mantello io L'apicoltrice Me l'hai messo dentro eh Ta merda Vabbè Io entro da qua Sti cazzi Via No Stanno per scoprire Cazzo Ma hanno scoperto Lasciamogliela vedere Volate tesorini miei Ma cazzo L'abbiamo persa Bonoli Oh comunque Che giocata ha fatto? Tra uno e l'altro Ha fatto una giocata Della madonna Cioè mi hanno visto Poi non mi hanno più visto Adesso è anche il tuo turno Col cazzo Che ti lascio lì Adesso tocca a te Bang Dalle palle E fammi accare Sta roba qua Dammi un momento Per dedicarmi A questo computer Dei templari È strano Tutti ora Vero? Come cazzo Mi difendo ragazzi Sì vabbè ragazzi È praticamente impossibile È praticamente impossibile Ma ce l'ho Ma ce l'ho delle armi decenti Sa che non ce le ho 70 Volate Volate tesorini Lì Ciao 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 È fuori portata Tu madre è fuori portata Lo sai che tua madre è fuori portata? Tua madre Proprio lei Zocco la bastarda Credo che abbiamo colpito nel segno Ecco la templare La templare Ciao Ciao Che culo ragazzi Cioè se lo faccio altre dieci volte Non ci riesco Ovviamente sono ancora a Londra Per ora almeno Spero che dieci scosse le tale in faccia Non è morta Papà aveva ragione Sei testardo come lui A dire il vero Non so neanche se potrò tornare dagli altri Con o senza di te Abbiamo rotto un patto tra gli assassini e i templari Essere a Londra è di per sé una condanna a morte Ma no Ok Satwork Autoconversions L'abbiamo fatta Manca L'ultima Che ovviamente non mi stai tracciando Perché Pariva strano che tu mi facessi un favore Qua dove me l'hai piazzato Vabbè Vicino all'uscita della metro Facciamo Fortuna A virtù Allora Qua Io riprenderei lo spider bot No Niente spider bot Perché devo Uccidere un'altra templare Sarola Che palle Vabbè Ma che merda che te lo mette lì Il bello è che Se anche tu ripulisci l'area prima Loro ti vengono comunque a rompere i coglioni Capito Quello che è bruttissimo Qua non c'è nessuno Non c'è nessuno per ora Poi dopo Aspetta che si fa così Cos'è? Isattiva Ciao C'è qualcuno là dietro L'ho visto Momento di tirarti fuori dalle fogne Sai Lì Fuori Che altro che casa di riposo Vi mando tutti all'inferno Giustamente No Zitto Cerchiamo bene Vieni qui Ale Avete pensavi Credevi Invece No Pensavi Credevi Volevi Fuck Dove me l'hai messo sto server Via A me che a livello di armi si è messi malissimo Vabbè Meglio fare La guerra prima che dopo Quello è sicuro Cosa è stato? Cosa faccio? Merda Non è necessario Si sparano Ha chiamato rinforzi Vaffanculo Siamo nella merda ragazzi Vedete se c'ho la soluzione C'è qualcuno che mi spara da dietro L'ho sentito sai Queste merda che vanno a chiamare rinforzi Capito? Vanno all'attacco Ma i cazzi vostri no eh Tradimento Cazzi vostri adesso Bravo tesoro Godo Dai Aspetta che se no se mi vede È la fine Tradimento Dai 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 ci sei Vai Mi avvicino Vado a controllare Bello lì Godo Bravo Disattivati Ciao Andiamo a creare il server E ciao Poi sicuramente ci sarà il ricarico Perché quello Mi pare ovvio però Nel mentre Godiamocela Vado a rovinare la giornata del nemico Torno subito Qua mi servi come il pane Io da qui non mi muovo Preferirei non doverti ammazzare Sali scavalca Perché non scavalchi Testa di minchia Stai qui Perché è disattivata Quella merda laggiù Devi Tradimento Vabbè Non so che di Oh Tradimento Cazzo Quante volte te lo devo di Credo che abbiamo colpito Nel segno E' Contemplare Qua morirò 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 ragazzi Eh ho capito Sono Seicentosessanta Quattromila Ragazzi Altro attivista Poi lei La mente l'ho già provata È un attivista del Cazzo Proprio Un attivista del Cazzo È proprio inutile L'attivista precedente È in ferie forzate Grazie ad Albion Tocca a te Ma non mi dire Beh è meglio darsi da fare Allora Non c'è più la torretta Ma che vuol dire Non c'è più la torretta Ragazzi Beh dovevo combatterla A modo mio Perfetto Eh E che dovevo fa Si può sparare Perché Evidentemente È una cosa che mi Che posso fare Possiamo venire da lì Ciao Eccolo 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 Adesso C'ho l'attivista Con l'arma forte Non potete fare niente Adesso Non potete Veramente fare niente Che avete inculati A sangue Fuori Donna Quest'arma qua È letale Proprio È il contemplare Ecco l'attivista Non c'è Quel rubore Ma vaffanculo Il braccio Del robot Il braccio Del robot Chi c'è poi Vieni Ciao Ciao Spero che questi messaggi Ti faranno ragionare E che verrai a cercarmi Dobbiamo andarcene Prima di finire Davvero nei guai Hai fatto vedere A quel templare Che cazzo esco Noi Siamo noi Che comandiamo Ok perfetto Che palle Potremmo completarla prima Però evidentemente Il gioco Non ha voluto Ascoltarci Scarpe nuove Bel lavoro Credo Eccolo L'audio Che schiccara Grazie alla sua Incoscienza L'attivista Ha finito Per farsi Sbattere In carcere Non è facile Reagire All'oppressione Da dietro Alle sbarre Non lo sapevo Perché non recluti Un avvocato Nella squadra Sì lo so Gli avvocati Non piacciono A nessuno Ma sanno Essere utili Per esempio Possono ridurre Mi piacciono gli avvocati E quindi Alla fine Questa Sincronizza Risincronizza È finita A quanto pare Sì Bene così Ragazzi Like al video Iscrizione al canale Ci vediamo alla prossima Adria è tutto Bacione Ciao